La tredicesima edizione del torneo di bici soccer Matteo Valenti in ricordo del giovane operaio purtroppo scomparso su un infortunio sul lavoro è terminata con il botto, ben 39 le squadre che si sono iscritte nelle categorie Under 10, 13, 16, 18 e Open nella categoria Open a cui si riferiscono le nostre immagini ha vinto la formazione dell'hotel Bella Riviera il mondo che vorrei che ha superato 3 a 2 al primo tempo supplementare la formazione del West Ham L'Ottato una finale davvero equilibrata che è iniziata con un preludio sicuramente molto molto toccante con il ricordo di Matteo Valenti, con la partecipazione della contrada del Pozzo, con canzoni, con lucine in tribuna affollata in ogni ordine di posto nella nuova location del Bagno Flora in passeggiata a Via Reggio con l'amministrazione comunale presente, con il vice sindaco Walter Alberici, gli assessori Patrizia Lombardi e Federico Pierucci, con Stefano Santini, l'organizzatore e anima di questa manifestazione che ha fatto da speaker e ha trascinato davvero tutto il pubblico numeroso presente a questa manifestazione in vantaggio l'hotel Bella Riviera con Galli, il pareggio subito del West Ham con Bitto poi nel secondo tempo ancora Bitto porta in vantaggio il West Ham 2-1 ma Vallini va sugli scudi per l'hotel Bella Riviera, sigla il gol del 2-2 a pochi istanti dalla conclusione dei minuti regolamentali il tempo dei supplementari di 5 minuti vede ancora Vallini sugli scudi che realizza il gol partita quello del 3-2 per il tripudio davvero della formazione allenata da Nicola Valenzi e Andrea Becagli cala il sipario su questa manifestazione che è davvero riuscitissima e adesso c'è da pensare al futuro di una collocazione sicura e per quanto riguarda definitiva nella location che è questa del Bagno Flora rispetto alla muraglione in Darsena dove è nato questo sport può essere sicuramente da prendere nella giusta considerazione